Riccardo Piacentini, abbiamo detto tanto di questa albisola anche col mister, quello che ho detto io è una favola che ha tutte le caratteristiche per essere tale, soprattutto anche delle rivincite, giocatori come te, come Sancinito, come Cargiolli, il mister stesso che tante volte vengono messi da parte e non considerati a fronte di altri, te hai delle medie impressionanti in serie di tutte le volte comunque fatichi quasi a trovare squadra, assurdo. Certo, insomma una sensazione bella ragazzi, mai provata prima quindi non saprei dirti esattamente quanto bella ma sicuramente è un po' una ciliegina il coronamento come dicevi te, insomma io ho dieci anni che la faccio la categoria tra alte e bassi, più bassi che alti, questo è un bel coronamento ecco insomma ce lo prendiamo tutto. Sono a fare dieci anni la categoria con comunque dei numeri, poi tu hai avuto anche un po' di infortuni nel senso, però voglio dire, insomma come vedi bisogna goderseli tutti questi momenti perché mi stanno un po'... Viene tardi Ricci! Comunque sì insomma dieci anni che la faccio e continuerai a farla ancora volentieri ma prima ti guardarci sul campo quindi poi staremo un po' a vedere. Ecco l'ultima domanda poi ti lascio andare l'anno però si può scrivere sulla carta di identità professione calciatore. Ma io mi definito ancora un tesserato, ad oggi sono ancora un tesserato. Ciao!